In seguito alla delibera del comune di Agropoli in cui si annuncia il via libera alla realizzazione dell'isola ecologica in località Malagenia, il consigliere comunale d'opposizione Agostino Abate è intervenuto ai nostri microfoni sulla questione. Abate ha portato avanti per anni la sua battaglia contro la creazione dell'isola ecologica in quella zona ed era riuscito a far bloccare gli iter dei lavori. Il Tarti Salerno, in seguito, ha respinto il ricorso attuato dal comune di Ogiastro Cilento e ha permesso all'amministrazione comunale di riapprovare il progetto dei lavori che dovrebbero partire nelle prossime settimane. Sono contro la realizzazione di quest'isola ecologica in quel posto, in quel sito, ma in particolare sono contro questa delibera dell'aggiunta municipale che è stata fatta recentemente, se non sbaglio, il 5 febbraio, perché è una delibera molto ma molto personale, anzi addirittura personalistica, con una lettura sbagliata di tutta la normativa. Dico sbagliata e mi permetto di dire così perché potrò spiegare in poche parole ciò che è accaduto, ciò che è nella normativa. A causa di una non chiara interpretazione di una normativa regionale si è diffusa la voce che tutti i comuni che non hanno adottato il PUC, il Piano Urbanistico Comunale, il 31 dicembre 2018, ovvero per tutti i comuni che non hanno visto approvato il PUC il 31 dicembre 2019, questi comuni decadono da ogni strumento urbanistico loro, come si dice, strumentale. Cioè nel senso che se ad Agropoli c'è il PDF, decade il PDF, se ad un altro comune c'è il Piano Regolatore Generale, decade il Piano Regolatore Generale. Avvalendosi di questa non chiara interpretazione, errata per me e poi diremo perché, il Sindaco di Agropoli e gli altri assessori hanno pensato, così come abitudine di questo territorio comunale, ma non solo, forse, di cogliere il momento, di cogliere l'attimo. Già siamo in un vuoto normativo locale, applichiamo una normativa nazionale, questo è il momento buono per poter fare una delibera di giunta in cui approviamo l'isola ecologica senza attendere più pareri di enti sovraordinati e senza soprattutto ritornare in consiglio comunale perché non è variante a nessuno strumento urbanistico. Non essendo variante a nessuno strumento urbanistico, l'atto giundale è un atto già di per sé completo. Quindi questo è il momento per poter realizzare l'opera. Quindi in quella delibera, se una persona o un qualsiasi lettore la va a leggere, trova non tanto praticamente un aspetto normativo vero e reale, ma quasi un inno di gioia. Finalmente siamo in un vuoto normativo locale, adesso realizziamo l'opera laddove ci fa piacere e come ci fa piacere. Quindi ho contestato in questo post questa lettura, questa interpretazione della normativa regionale. Loro sono convinti quindi che Agropoli è decaduto dal PDF, ma non è così. Poi lo spiegheremo semmai in un'altra sede e lo spiegheremo soprattutto nell'interrogazione che ho formulato al Sindaco, sperando che il Consiglio comunale venga convocato al più presto. Allora a questo punto sorge spontanea ancora una volta però ripetersi all'infinito la domanda affinché si possa ottenere una risposta. Ma perché l'amministrazione comunale continua a battagliare per realizzare in quel sito una discarica? Quello è un sito che viene a costare per appena 4 mila metri quadrati di realizzazione dell'isola, che investe solo e soltanto 4 mila metri quadrati, 118 mila euro. E in più in quel sito ci sta sotto una condotta ad alta pressione, una condotta idrica ad alta pressione. Allora la domanda sorge veramente spontanea. Ma perché insistere di farle in quel sito laddove ci costa 118 mila euro e in più c'è una condotta ad alta pressione? Questo è il messaggio che ho voluto lanciare sui social affinché chiunque potesse praticamente prenderne visione ed esprimere una propria valutazione.